come vi chiamate colette esposito dove siete nata non so dove e da chi nacqui sono figlio della madonna non si tratta di prendere un marito per genio o per passione ma per figliare uno stato perché la santissima casa dell'annunziata non abbia sulle spalle migliaia di bocche da alimentare occorre che il superfluo si riversi al di fuori giuro che ammanerai sempre e soltanto giuro eh giuro giuro tuo solo per sempre attento cibriano se un giorno mi tradirai io vi ero su di te la mia più feroce vendetta ma dove la troverai madonna che mi ami più di quanto tu mi ami la mia vita è regata la tua per sempre il mio destino è il tuo se il colette volesse tornare mi mi piace con me pure la piccina perché con marito parugiana ha spezzato questa catena vorrei non abbastanza avanti a dio sempre moglie la maestra cibriano ci piace assai alle ragazze nocietta la sartina di monte calvario si gira sempre attorno e non si vuole rassegnare non sarà facile che la sua collera si placchi tremendo l'ira e irrimediabile quando nella casa scoppia una contesa questa famiglia non esiste più è finita grazie a tutti Grazie a tutti.